Leonardo Silva Revisore Leonardo Silva Revisore Leonardo Silva Revisore Pensavo che per fare la rivoluzione occorresse essere un personaggio particolare tipo Mao, Che Guevara o Gandhi. Poi una sera, in realtà, in un modo inaspettato e molto semplice, è cambiata la mia vita e ho capito qual era la mia missione nel mondo. In realtà non è stato né per un boccale di birra né per un incontro romantico, come ci hanno raccontato alcuni relatori prima, ma per un ortaggio. Mi è andata bene, poteva andare peggio, perché è stato grazie a un carciofo. Quindi mi ritengo molto fortunata. Magari a tanti di voi è capitato, mentre cucinavate degli ortaggi, di rendervi conto di quanto si scarta ogni giorno, di quanta è la percentuale di scarto. E' quello che è successo a me una sera, proprio grazie a un carciofo, e questa cosa mi ha aperto la mente. Mi ha fatto un po' cambiare prospettiva. E da quel momento ho deciso che quello che avrei fatto, quella che sarebbe stata la mia missione nel mondo, sarebbe stata non dare più niente per scontato e cercare di rendere il mondo un pochino più sostenibile, partendo proprio dal cibo. Perché il cibo? Il cibo è la cosa su cui abbiamo più libertà di scelta. È la cosa su cui possiamo decidere per noi, per la nostra famiglia, ogni singolo giorno. E non solo, quindi è una questione di scelta, ma è anche una questione di impatto ambientale, perché le nostre scelte alimentari di ogni giorno costituiscono gran parte del nostro impatto ambientale quotidiano. Se vogliamo tradurlo con un indice, potremmo parlare, ad esempio, di impronta ecologica. E incide molto di più quello che scegliamo di ordinare al ristorante che magari il modo in cui ci vestiamo o come ci spostiamo per la città. Per questo motivo, credo che sia importante essere, se non altro, perfettamente consapevoli delle scelte che si fanno ogni giorno e magari cercare di cambiare qualcosa, cominciare una piccola rivoluzione, se possibile. La mia parola d'ordine è una, ed è molto semplice, piuttosto è una cosa di buonsenso, ed è ottimizzare. Direi che è quasi più una parola che si riferisce all'economia domestica, probabilmente, che all'impatto ambientale. Però penso che sia un concetto molto semplice che si può ben applicare alla vita di tutti i giorni e soprattutto a quello che è il nostro rapporto con il cibo. Ottimizzare vuol dire, ad esempio, il modo in cui facciamo la spesa, quanto decidiamo di acquistare, quindi, ad esempio, il concetto di comprare il giusto, quello che effettivamente serve, cercare il più possibile di ridurre gli sprechi e poi anche, ovviamente, cercare di usare il 100% delle materie prime, il concetto anche dei consumi, ottimizzare i consumi e soprattutto anche il modo in cui componiamo il piatto ogni giorno. Il piatto, quindi, che cosa effettivamente portiamo a tavola? Gli scarti. Io sono partita in questo progetto, quindi, dall'incontro con il carciofo, proprio dalla fine della filiera, dai rifiuti, da quello che solitamente buttiamo via. Adesso, qui davanti avete un piccolo esempio di scarto versus materie prime nobili. Noi siamo abituati a fare quello che io sto facendo adesso tutti i giorni a casa, quando puliamo le verdure, e a separarle. Da una parte c'è la parte nobile, che usiamo, e da una parte c'è lo scarto. Lo scarto, quindi la parte meno nobile, è in media almeno il 50%. D'inverno arriviamo anche fino al 70%, perché tantissime verdure hanno più parti protettive. Quindi, che cosa vuol dire ottimizzare in cucina? Vuol dire cambiare l'approccio al cibo. Vuol dire usare il 100% delle materie prime. Ma non vuol dire semplicemente recuperare queste cose dai rifiuti. Vuol dire avere un approccio diverso. Vedere tutte queste parti come un unico insieme. Facciamo un esempio con la mela. Io la mela posso vederla come, ok, una mela, ma posso anche vederla come un insieme di quattro ingredienti. Per esempio, la polpa, per semplicità ho fatto delle chips, ma avrei potuto anche gustarla così a naturale, farci una torta. La buccia, magari la sto mangiando così com'è, oppure l'ho essiccata e ci faccio una tisana rigenerante fantastica, che se compro in eboristeria mi costa sicuramente di più. Il torsolo lo centrifugo e lo lascio fermentare. Quindi il succo, al naturale, diventa un aceto, un buonissimo aceto di mele. Perché l'aceto si può fare anche dai torsoli. E i semi li posso usare come gelatificante. Questo è solo un esempio con un prodotto che dovrebbe esservi familiare, ma è il concetto che secondo me dovremmo applicare a ogni singolo ingrediente. Un altro esempio, uno degli ortaggi che ci ho messo più tempo ad amare, ad amare al 100%, intendo. Ad esempio la zucca mi piace molto perché la buccia è la vera parte nobile. È quella dove si concentra la maggiore quantità di fibra. È meno dolce della polpa, per cui magari se non vi piace il dolce troppo spiccato della polpa potete concentrarvi sulla buccia. Ed è anche la parte che contiene più fibre. Quindi un beneficio sicuramente anche per la salute. Ma non solo. Con tutti i filamenti interni posso preparare una cialda, i semi li posso tostare o anche semplicemente far germogliare. Il far germogliare una cosa penso che sia un esempio pratico di una tecnica facilissima, ma che permette di trasformare e valorizzare anche qualcosa che abbiamo tutti in casa e che solitamente non degniamo di uno sguardo e che buttiamo via. Quindi ottimizzare in cucina per me è soprattutto questo. Cambiare un po' la propria mentalità e vedere con un occhio diverso, in particolare gli ortaggi, ma tutto il cibo, per sprecarli meno e valorizzarlo al massimo. Ottimizzare vuol dire anche ottimizzare i consumi di acqua ed energia. Per esempio, tutte le volte che cuocio la pasta o delle verdure, posso in contemporanea cuocere altre cose. Magari delle verdure. Basta avere un cestello, non è che serva chissà che cosa. Oppure, tutte le volte che uso un elettrodomestico, come la lavastoviglie, usarlo anche per cuocere. E non è solo una provocazione, sono sicura che qualcuno di voi sta torcendo il naso, ma è una tecnica di altissima cucina, la bassa temperatura. Quindi non occorre che vi compriate uno strumento professionale da 2.000 euro, ma potete semplicemente usare la lavastoviglie tutte le volte che lavate i piatti. Come si fa? Un esempio molto pratico. Prendete un vasetto, come questo, deve essere la tenuta ermetica, metteteci ad esempio un uovo, coprite con dell'acqua e chiudete bene e lo riponete in mezzo ai piatti sporchi. Quindi la lavastoviglie comunque deve essere piena, piena di piatti sporchi come sempre. E poi avviate il lavaggio che preferite, scegliete in base ovviamente allo sporco dei piatti e non viceversa. Quando il lavaggio finisce, il vostro uovo sarà alla coq, sodo o bazzotto, a seconda del lavaggio che avete scelto. E sarà fantastico perché sarà cotto a bassa temperatura, quindi molto meglio del classico uovo sodo, una consistenza incredibile. E l'avete fatto a impatto zero, a costo zero, e in più ottenendo un risultato che difficilmente si otterrebbe con le tecniche tradizionali. Quindi ottimizzare anche l'utilizzo dell'elettrodomestico penso possa dare degli interessanti benefici. Un'altra applicazione dell'ottimizzare, questa volta, al piatto. Adesso vi entro ancora di più in casa, nei vostri piatti. Allora, quando eravamo in guerra, ok, c'era penuria di un sacco di alimenti. Avevamo poche proteine, si mangiavano un sacco di patate, di polenta. E veramente, quando si potevano mettere alla tavola, ad esempio delle carni, dei piatti proteici, era una festa. E andava bene così. Adesso, invece, il problema è opposto. Abbiamo tantissima abbondanza e abbiamo un po' la tendenza, tutti, a mettere nel piatto il doppio delle proteine che ci servono. Perché è un problema? È un problema perché, in realtà, se mangiamo troppe patate o troppa polenta, sì, magari mettiamo su del peso, ma se mettiamo nel piatto troppe proteine, in realtà stiamo affaticando reni, fegato e anche aumentando il rischio di sviluppare alcune patologie. Quindi è una cosa che non ci fa bene. Quindi la classica porzione da ristorante, ma anche che ci facciamo a tavola, che può essere dai legumi alle carni ai pesci, in realtà è troppo abbondante. E mangiando tante verdure, in realtà, noi copriamo gran parte del nostro fabbisogno di proteine quotidiane. Perché ho inserito questo concetto nel mio talk? Perché, in realtà, mangiare più di quello che ci serve è uno spreco di risorse. È sicuramente qualcosa che potremmo migliorare. Se per di più queste proteine sono proteine animali che hanno sicuramente un elevato impatto ambientale, vuol dire anche, insomma, ridurle, poter diminuire il proprio impatto ambientale. Quindi penso che sarebbe importante che tutti noi mettessimo un pochino meno proteine nel piatto. Sarebbe sufficiente un piccolo sforzo da parte di tutti voi per avere un importante beneficio sicuramente ambientale sulla nostra salute singola, ma anche, direi, di tutto il nostro paese, e poi ancora di più se lo facessimo a livello mondiale, anche in termini di spesa pubblica per la sanità. È un beneficio anche di benessere del singolo e, ovviamente, per la società. Credo che sia più efficace cercare di convincervi a mettere un pochino meno proteine nel piatto che magari cercare di convincere tutti voi a abbandonare i prodotti animali domani. Probabilmente ne convincerei uno, mentre magari questa cosa spero che vi rimarrà impressa. Non dovete preoccuparvi di mangiarne abbastanza, ma di non mangiarne troppe. Questo è il problema delle proteine. E soprattutto cercare di mangiarle di qualità e più possibile privilegiando i prodotti animali che hanno un basso impatto ambientale. Quali? Vi starete chiedendo. Beh, insomma, l'anno prossimo ci sarà anche Expo e ci sono un sacco di persone che parlano del cibo del futuro. Cibo del futuro, io ho sentito dire tanto gli insetti. Personalmente credo che non facciano proprio parte della nostra cultura, non so se siete d'accordo con me. non siamo proprio un paese mangiatore di insetti e credo che difficilmente lo diventeremo. Ma c'è invece un alimento proteico che assolutamente anche qui ha impatto zero, che possiamo per di più autoprodurre noi a casa nostra e che per di più possiamo nutrire di scarti vegetali, magari non quelli che porteremo a tavola stasera, ma le cose che invece non riusciamo proprio a utilizzare. Di cosa sto parlando? Sto parlando degli ospiti, a sorpresa che sono con me sul palco oggi, ovvero di lumache, che hanno un po' sofferto dei climi a rigidi del Trentino, come vedete, e hanno deciso stanotte di andare in letargo. In ogni caso, ne ho qui una rappresentanza. Perché mi piacciono le lumache? Appunto perché chiunque di noi le può autoprodurre. Sono un prodotto gourmet, che fa parte della tradizione italiana. In sala, chi di voi ha mai mangiato le lumache? Chi non le mangerebbe mai? Vedete? Probabilmente dieci anni fa questo numero sarebbe stato inferiore, avremmo avuto più mangiatori di lumache. Circa 35 anni fa una legge ci ha impedito di raccoglierle. Noi eravamo anche raccoglitori di lumache, ma soltanto di approvvigionarci da dei produttori professionisti. Questo ha favorito un grande sviluppo di produttori di lumache in Italia. E noi siamo uno dei paesi proprio che hanno l'eccellenza a livello mondiale. Ci sono migliaia di produttori in Italia. Non solo per l'uso alimentare, ma anche perché vengono usate poi per la cosmesi e per altri utilizzi. Ma è un alimento che, chiedendolo anche ad amici chef, ha veramente tantissimo da dare. È estremamente versatile, ha un gusto estremamente delicato. Basta sapere come fare. Allora, per allevare le vostre lumache a casa, vi basta un piccolo... un balcone, un orto, un po' di terra, una retina per non farle scappare. Le lumache in realtà arrivano anche da sole. Basta piantare dell'insalata, oppure potete prendere delle uova, e poi nutrirle con gli scarti vegetali. Quindi ancora di più, quindi azzerare gli sprechi alimentari. Due volte all'anno avrete il vostro raccolto, in autunna e primavera, come un ortaggio. Richiedono un tempo di cottura di circa un'ora e poi potete farne quello che volete. Quindi dal bourguignon, l'escargot francese, o ricette più nostrane. Sicuramente possono dare soddisfazione. È una carne, tra l'altro, povera di grassi, che ha moltissimi benefici, e che può, secondo me, diventare non solo il cibo del futuro, ma anche un cibo del presente. Spero che magari l'anno prossimo, se vi faccio questa domanda, ci siano più persone in sala che le mangiano e meno che non le mangerebbero mai. Di sicuro richiedono un piccolo cambio di mentalità e superamento di un pregiudizio. Quindi, rivoluzione sostenibile. Io sono convinta che possa essere alla portata di chiunque di voi e che richieda veramente un piccolo cambiamento. Sicuramente un cambio di mentalità e il superamento di pregiudizi. Sono consapevole che chiedervi di cucinare il lavastoviglie, mangiarvi tutte le bucce, cominciare a mangiare le lumache, non sia una cosa così semplice, ma sono una persona molto ottimista e quindi spero, in realtà, di avervi, se non altro, incuriosito. Meno proteine nel piatto, cambiare il modo di vedere tutti gli ingredienti, e i benefici sono veramente tanti. Quindi unitevi a me e diventate rivoluzionari perché i benefici sono veramente tanti. Sono per la nostra salute, per il benessere e soprattutto per la felicità nostra e del pianeta. Grazie. 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 Grazie.